Tutatirateratera tutatiratera tutatiratera tuto Ciao amici, ciao bambini, benvenuti alla settima puntata di Telemarianna La mia televisione E allora bambini, iniziamo subito con il laboratorio creativo E' iniziata la settimana di Pasqua e quindi iniziamo a fare qualche lavoretto che riguardi appunto la Pasqua E allora vediamo che cosa ci dice a proposito la nostra amica Federica Ciao Marianna Oggi bambini facciamo il laboratorio del coniglietto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti